Inaugurata questa mattina a Napoli la diciannovesima borsa mediterranea del turismo che dal 26 al 28 marzo sarà ospitata nei padiglioni della mostra ad oltremare. Con 450 espositori e 20.000 visitatori professionali attesi, la BTM è la più grande fiera turistica del centro-sud Italia. Fra le novità di quest'anno uno spazio dedicato alla Bulgaria e uno alla Polinesia. Napoli è presente con un suo punto espositivo gestito dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti con cui il comune di Napoli ha intrapreso una collaborazione. Il turismo a Napoli vive un momento molto positivo. Secondo i dati dell'ente provinciale turismo negli ultimi anni i flussi turistici in città sono raddoppiati con un forte incremento nel 2014. Napoli è la città d'Italia che maggiormente cresce in termini turistici. Il 2014 è stato eccellente, il 2015 è cominciato in modo altrettanto eccellente. Dobbiamo adesso offrire sempre il meglio in termini di accoglienza e di servizi e anche qui l'iniziativa in mostra oltremare della borsa del turismo ci dà delle indicazioni assolutamente confortanti. Napoli è ritornata a essere un punto di riferimento internazionale ai massimi livelli.